Molto bene, stavo pensando che nel 2020 stiamo ancora a giudicare le persone dal lavoro che fanno, dai soldi che hanno, dalla macchina che hanno. Io sono considerato strano, la gente mi evita, non ho un lavoro, non sono integrato, mi lamento spesso. Però la maggior parte delle persone che conosco mi considerano colto. Io ho colto, ho fatto il Barozzi, sono un cazzo, sono colto perché tu non sai in che anno è stata scoperta l'America, non è colpa mia. Forse sai in che anno è stata scoperta l'America, però perché è scoppiata la seconda guerra mondiale o quando è scoppiata non lo sai. Insomma, la tua lingua madre conosci 15 mila vocaboli, quindi io ho anche una capacità di espressione elevata. Io noto comportamenti stranissimi tra le persone cosiddette integrate, non nascondo che soffro la mia solitudine, soffro del fatto che puoi telefonare e non solo la gente non ti risponde, ma non ti richiama e neanche ti manda un messaggio. Chiaro, non mi riferisco a tutti e nessuno, poi può capitare assolutamente, io parlo di comportamenti consolidati nel tempo. Fratelli, parenti, se non si odiano è molto, se si vede a Natale va tutto bene. Sono cose incredibili, tra voi e per voi intendo, come ho detto tutti e nessuno, cosiddetti normali. C'è un comportamento, comportamenti veramente assurdi. E poi, frase di mio amico, mi sto sforzando di fare signore, ok, quindi non faccio nomi, però. Grande amico, non vedevo danno, mi disse, eh ma poi a un certo punto ognuno si fa la sua vita. Ah sì, mi sono accorto. Ma tu in questo momento non riesci o non puoi respirare, perché lavoro figli, già due figli non lavoro, soft, ti mandano in crisi da morire. Ma, e tutto questo trantram che ti risucchia, poi intorno finisce, dopo cosa fai? Telefoni a me? No. Vai un po' ciò a figliare su per la carta? Continui a berti dei gin tonic e fumati che non può darsi? Io non lo so. Non è che questo video... Sono solo constatazioni. Cioè, lo strano sono io, ok? Dai, che sì, sono stravagante, le mie stranezze, però ne ho passate tante, ma tante. Come tante persone, però. Magari io non dovrei mettere sul piatto anche quello, ma anche tante. Vabbè, dai, non è che voglio piangermi addosso. Però. Cazzo, quante ne ho addosso. No, vabbè, tranquilli, la vita è fatta così. Tranquilli che... Che la vita è fatta così. Direi che il video è finito, quindi posso premere il pulsante. E... Cazzo.